Buongiorno a tutti in questo nuovo video fuck in cui risponderò alle vostre domande Infatti vi ho chiesto di farmi delle domande all'interno di un post di Instagram e voi le avete fatte Quindi ora le rispondiamo perché chiaramente le risposte vanno fatte per essere domandate Questa frase non ha proprio nessun errore E cominciamo dalla prima domanda che c'era fa Giulie31 Ciao Giulie Sei fidanzato? No ricominciamo con questa domanda No basta Nello scorso video circa 3-4 persone hanno fatto la stessa domanda No ragazzi sono single perché l'ha detto il faro led che ho nella parte destra della mia faccia Sì no non è vero sono da solo perché da soli si vive meglio Meglio soli che mal accompagnati Poi abbiamo una domanda di Steppo Power Come ti vedi da 2000 anni morto e polvere in giro per il pianeta Terra a inquinare il mondo Bellissima prospettiva Poi abbiamo una domanda di Valelove1000 Sai perché il pomodoro secco non prende il sole? Perché se no si acciuga Perché questa domanda che non è una domanda è una battuta bruttissima Perché io l'ho pure letta Poi passiamo a una domanda di Crazy Mi fai moderatore su Twitch? Assolutamente no E un'altra domanda di Crazy Quiz a sorpresa Mese e anno esatto in cui ci siamo parlati che è la prima volta Forse il mese è l'anno peggiore della mia vita Quindi boh non me lo ricordo e non voglio ricordarmelo Anche perché ragazzi Crazy è una di quelle persone che durante le live di Minecraft Spesso degna non sopportare Perché sono quei fan esagerati Che volevano troppa attenzione Che poi peccato che qualcuno gli ha anche dato Ah se tornassi indietro nel tempo Peccato che non è possibile Peccato peccato Passiamo poi alla domanda di Diego Domanda Cosa ti hanno regalato al compleanno? Vuoi farci rivedere i tuoi regali? Una parte Allora per il compleanno non mi hanno regalato niente Perché dobbiamo comprare questo benedetto computer E quindi in realtà per il compleanno vero e proprio non ho ricevuto niente Ho comprato un processore e una scheda madre in questo momento Che stanno arrivando da Amazon Ma bisogna ancora comprare alcune parti del computer Quindi in questo momento i regali del compleanno non li ho neanche qui Quindi poi appena arriveranno farò il video in cui mondo il computer e li vedrete Loris ci chiede Hai mai fumato? Assolutamente no È la cosa più fastidiosa che può assistere al mondo Mi dà un fastidio assurdo Anche se una persona è a 20 km di distanza e fumo Mi urta Però mi urta Sia psicologicamente Mi dà poco fastidio a tutto Cioè io se vedo che il fumore c'è a tossire Non la fremo più per almeno mezz'ora Quindi non è una cosa molto positiva Ecco per me Mattinico ci chiede Che squadra tifi di calcio Non seguo il calcio Nessuno sport praticamente Sono un asportivo Io e lo sport siamo molto lontani Come se io fossi in Antartide E lui nell'Antide L'occhiaia ci chiede Secondo te la russa tornerà mai in Italia? Come abbiamo scoperto nel video di Like All You In realtà la russa Non se ne dovrebbe andare Ma dovrebbe andare in Russia E poi tornare in estate Mi scuso per la luce che diventa Prima calda e poi fredda Ma il suo l'ha deciso di odiarmi E quindi ce ne dobbiamo stare per forza così Poi passiamo alla tanda di Maki824 Secondo te se laviamo un toro da una macchina fotografica Essa può diventare un frigorifero? Se leviamo un toro da una macchina fotografica Può diventare un frigorifero? Che senso ha sta domanda? Scusate Però ne ha fatta una più intelligente dopo Che genere di musica ti piace? Allora ragazzi Io ascolto di tutto Ascolto veramente di tutto Basta guardare La mia playlist su Spotify C'è di tutto Ma anche se guardate un po' i vinili Lì vicino al vinili lettore Che poi si chiama giradischi Ma io l'ho chiamato in un modo bellissimo Ascolto di tutto C'è ascolto il rock Ascolto il metal Ascolto il pop Ascolto la musica classica Ascolto anche un po' di trap Pochissimo Veramente poco Però ogni tanto qualcosa la sento Quindi diciamo che ascolto veramente di tutto Se guardate la mia playlist di Spotify Che se mi ricordo vi lascio qui sotto in descrizione Capirete che io ascolto veramente ogni genere di musica Però c'è una cosa che non ho mai compreso Il jazz è un casino di strumenti Che ognuno fa una cosa diversa E non si capisce niente Quello forse è il genere di musica Più strano e incomprensibile Che io l'abbia mai visto Passiamo per la domanda di Valerio Come ti vedresti tra dieci anni? Che poi è il ragazzo che avete visto anche nel blog del romics Come ti vedresti tra dieci anni? Come mi vedo tra dieci anni? Boh mi vedo più grande E con uno stipendio Dez Raki ci chiede Come è stato tagliarsi i capelli? Penso sia stata l'idea più giusta e azzeccata di questo 2018 Che è l'anno dei cambiamenti Come aver cambiato il canale da gaming a completamente vlog Cambiato il taglio di capelli Che comunque in questo video sembra un po' pazzo Però vabbè Vabbè a niente A voi piace questa non curanza di questi video E quindi sì È stata un'ottima idea Il signor Duck ci chiede Perché secondo te ho scelto l'alberghiero? Perché non avevi voglia di fare niente? Se ho indovinato Scrivono nei commenti Samantha ci chiede Qual è il tuo sogno nel cassetto? Come stai? Io sto benissimo Anzi sto seduto in questo momento E per quanto riguarda questa domanda Ho già risposto in un video precedente In cui si chiama Che cosa vorrei fare da grande? E lo trovate nel canale Yonut2004 ci chiede Perché hai scelto di fare YouTube? E quando? Io ho scelto di fare YouTube Quando mi annoiavo In realtà questo è il mio secondo canale Perché io ho un canale molto tempo orsono Il quale portavo vlog Con registrati con l'iPad In cui parlavo di cose Ho fatto un vlog di Natale Con un'arena che faceva una luce Che faceva paura Ho fatto un vlog di Halloween In cui parlavo di tutto quello che avevo fatto Per abbedire la casa Che poi erano semplicemente I disegni che io appendevo sul muro Grande design E quindi praticamente Io ho sempre fatto YouTube Io faccio YouTube Penso da almeno 7 anni 6 anni Questo canale ormai C'ha quasi 3-4 anni O 3 anni e mezzo O cose del genere Quindi sì Faccio YouTube da tantissimo tempo E perché ho scelto di fare YouTube? Perché a me è sempre piaciuto Vedere qualcuno che mi ascoltasse Diciamo che il mio sogno Visto che adesso l'ho detto Lo diciamo Rispondiamo anche alla domanda di prima Il mio grande sogno sarebbe quello Di fare il presentatore televisivo Quindi questa è un po' La mia piccola televisione DemiQC04 Chiede di essere salutata Quindi ciao DemiQC04 Mariam ci chiede Che luogo ti piacerebbe visitare? Che luogo ti piacerebbe visitare? La Norvegia Penso che i paesi notici Sono quei luoghi che mi attirano E che vorrei visitare Perché secondo me sono dei posti E poi lì hanno programmato Minecraft Quindi bisognava assolutamente Andare a trovarli A sincina mano E a fare piacere Io adoro il moddato Perché Minecraft vanilla E mi annoia Rossi Channel Mi chiede A ottobre sarai a Romics? Ciao Rossi Channel Penso proprio di no A meno che non cambi qualcosa Tra gli astri Che si incrocino E si incontri In un modo strano Per cui Saturno saluti Venere Mentre Mercurio Va a fare la spesa Io penso di non esserci A ottobre a Romics Giada ci chiede Mi puoi salutare nel tuo video? Ciao Giada Se non puoi Perché hai deciso di chiamarti Di chiamare il tuo canale Chris377? Ho deciso di chiamare il canale Chris377 Perché La finiamo di urlare? Perché Ve lo dico Quando arrivo ai 10.000 iscritti Infatti ho fatto una promessa E una live Quando arrivo ai 10.000 iscritti Vi dirò Perché mi chiamo così TheMadness.it Chi ci chiede Ti piace Harry Potter? Mi puoi salutare Mi chiamo Melissa Ciao Melissa E Harry Potter Harry Potter Una di quelle cose Che è un po' Un amore e odio Non che non mi piaccia Anzi ho guardato anche Il signore E il signore Gianelli Anzi ho guardato Anche I Doni della Morte Al cinema Sia la parte 1 Che la parte 2 Cioè Diciamo che il film Mi piace Ma il genere Non è che mi attiri così tanto Infatti Figuratevi Che io ho Un libro di Harry Potter Il primo Che è ancora a metà Ma c'erò da tipo 6 anni Non l'ho mai finito di leggere E non penso L'ho mai finito di leggere È il genere Più che altro Che non mi attira È il fantasy magico Che non mi ha mai Appassionato tanto E abbiamo Un'ultima domanda Di Vincenzo Che ci chiede Sei vergine? Sì Sì sono vergine Perché sono sempre È stato solo Single Ma ho imparato La vera essenza Della vita La solitudine Di far capire Come agire In ogni situazione Senza aiuto degli altri Non è vero In realtà È solo una scusa Perché siamo soli Brutti e odiati da tutti Che schifo il mondo E le domande Finiscono qui Grazie a tutti quelli Che hanno fatto queste domande Perché avevano permesso di fare Questo bellissimo video E se avete altre domande Da farmi Fatele qui sotto Nei commenti Con l'hashtag E noi ci vediamo Ad un prossimo video Arrivederci